Antonella Fiordelisi era per molti una delle finaliste, la sua eliminazione ieri sera però non ha stupito. Dopo la squalifica di Edoardo Donna Maria, e il ripresentarsi delle medesime dinamiche, che l'hanno portata a litigare con quasi tutti i concorrenti di questa edizione, il pubblico ha deciso che fosse arrivato il momento per lei di tornare a casa. Appena uscita dal programma eccola col suo Edoardo Inouye. Io e te, io e te, che stiamo in movimento, io e te, io e te, che abbiamo fatto tutto, che vorremmo insieme, che abbiamo fatto tutto, e tutto c'è da fare, che siamo.